Cari amici di Zoccalcio, benvenuti qui allo stadio di San Giorgia, si è appena finita la partita. Oggi andiamo sul sociale e siamo molto fieri di poter ospitare un giocatore che ha fatto il meglio pur avendo un grave handicap. Ecco qui già la Romania, Sardu Mutu, un giocatore che ha grandi problemi di linguaggio, ha avuto una disfunzione da piccolino e non sente e non parla, per cui adesso mi appresterò a comunicare con lui e vi darò la partita. Allora caro Sardu Mutu, la partita com'è andata? E' andata bene, c'è stata grande comunicazione in generale fra i giocatori, si è trovato molto bene con alcuni compagni, si è parlato un po' troppo, comunque il gioco è andato per il meglio. In che posizione preferiresti essere schierato? Ah, ho capito. Dietro le punte, in modo che lui si possa svariare per tutto il fronte e poi entrare dentro la difesa, diciamo non marcato. Hai visto i giocatori, mi devi guardare se sa, hai visto i giocatori in particolare che ti sono piaciuti? Ho capito. Quindi ha avuto il sostegno di compagni, nessuno in particolare, però ha detto che il gioco è stato conciso e che alla fine si è trovato abbastanza bene. Quindi mi sembra tutto, se vuoi salutare, un saluto alla Romani anche per noi. Arrivederci a tutti.